Dopo l'esempio dell'http get della volta scorsa, vediamo oggi invece come effettuare la richiesta di tipo post. In pratica faremo finta di essere un browser che invia i dati richiesti al submit su una form dopo che l'utente ha compilato i campi richiesti. Per semplicità vi utilizzo un solo campo, ma la tecnica che vi spiego è banalmente generalizzabile a un qualunque numero di campi, di qualunque tipo. La URL richiama una pagina PHP. Ho scelto questa tecnologia lato server, ma di nuovo usate quella che preferite. Ciò che produrrà in output quella pagina sarà ciò che riceveremo come risposta e che andremo a visualizzare in questo QPlainTextEdit. Cosa ci farà la pagina PHP richiamata con il dato che l'avremmo inviato? Non ci interessa. Io mi sono limitato ad un eco del dato ricevuto. In realtà avrebbe potuto inserire, modificare qualche cosa in un database. Anzi, se stiamo utilizzando il tipo post di HTTP request dovrebbe fare quello. E sappiamo che i dati inviati lo saranno in modalità sicura, non intercettabile, come invece ci saremmo esposti come rischio utilizzando l'http request get. Potete tranquillamente utilizzare un vostro spazio web reale, se ne avete uno, oppure installare un server Apache in locale. Chi mi segue lo sa, io utilizzo la suite XAMPP. Ecco il pannello di controllo. Facciamo partire Apache. Nella cartella yt del mio htdocs ho inserito questo paginone con questo script, che come dicevo si limita a confermarmi di aver ricevuto il dato che andremo ad inserire sulla form cute. Questo è l'array, per chi non conosce il PHP, che viene automaticamente predisposto per le pagine PHP richiamate, che contiene i dati inviati come post o come get. Contiene sia quelli di post che di get. Dovrebbe in questo caso contenere solo quelli di post. Nazione è il nome che daremo alla variabile nel pacchetto dati che prepareremo a richiamo, cioè all'invio su uno dei due campi. Infatti ho predisposto le cose in modo che premendo l'invio su uno qualunque dei due campi, si vada a richiamare sempre lo stesso metodo. Vediamolo, questo è banale, quindi alla pressione del return vado in realtà a chiamare lo slot della casella di testo della URL. Spostiamoci allora sul codice programmato per lo slot della casella URL. Partiamo dalla fine, proprio dall'invio della richiesta. Questo manager, che sarà ovviamente l'oggetto network manager, come già visto l'olta scorsa. Metodo post. Dovremmo indicare due cose. Una richiesta al server, che dovrà contenere ovviamente la URL da richiamare, la pagina PHP, l'indirizzo. E in più, rispetto alla volta scorsa, anche la specifica degli leader standard, che determinano la codifica del contenuto che stiamo inviando e gestendo. E i dati inviati alla pagina. Vediamo come costruire questi due parametri. Puliamo prima il Qplane TextEdit per la risposta del server. Istanziamo un oggetto QNetwork Access Manager. Il parent è questa stessa finestra, this. La URL è stata impostata in questo oggetto QURL. La recuperiamo dalla casella di testo URL.txt. Per costruire il pacchetto dati da inviare alla pagina, conviene prima passare per un oggetto QURLQuery, la query string associata alla URL da richiamare, che ho chiamato parametri. E qui andremo a inserire gli stessi dati che avremmo inviato tramite una form, con i vari input type text, radio button, qualunque cosa. È uno solo, ma basterebbe aggiungere qua sotto tante altre invocazioni del metodo addQueryItem per aggiungere una coppia chiave d'accesso, il nome della variabile, insomma. Io ho fatto finta di inviare il nome di una nazione. Infatti la casella di testo da inviare ha come name proprio nazione.txt. E quella sotto URL.txt. Dicevo, per aggiungere un dato ai dati, primo parametro il nome della variabile, secondo parametro il valore. E ho qui semplicemente estratto il testo dalla casella di testo nazione.txt. In questa forma però i dati non vanno bene. Dobbiamo trasformarli in un array di byte e per fortuna lo potremo fare molto semplicemente sfruttando uno dei metodi della classe QByteArray. I dati che vediamo indicati qua e che pretende il metodo POST del NetworkManager sono proprio di tipo QByteArray. Quindi istanziamo l'oggetto vuoto e aggiungiamo tutti i dati con il metodo append, al quale possiamo dare in pasto i parametri impostati sopra, 1, 2, 3, quelli che volete, trasformati in stringa con il metodo toString. Abbiamo la URL, abbiamo i dati da inviare, ci manca solo una cosa prima di sparare la nostra richiesta POST, impostare il leader. Per farlo però dobbiamo prima creare l'oggetto QNetworkRequest, la richiesta al server. Impostiamo la URL da richiamare e con il metodo setHeader, leader standard, in pratica dovremo indicare come primo parametro l'attributo che ci interessa dalla NetworkRequest, il contentTypeHeader, con un valore, questo che è quello tra parenze di default, anche se non dovessimo aggiungere leader, dovrebbe applicare questi di default. Comunque è più chiaro indicarli in modo esplicito. Finalmente siamo pronti per inviare la richiesta, però dobbiamo anche predisporre chi dovrà ricevere ed elaborare la risposta del server. Come l'altra volta colleghiamo il segnale emesso dal manager quando riceverà la risposta dal server, il metodo che andremo a scrivere noi, il riferimento a questa finestra, e che io ho chiamato ElaboraRispostaServer. Il parametro che riceverà è di tipo QNetwork, reply, risposta del server. Sotto, anche se non ho provato questa volta in modo esplicito, c'è la parte che dovrebbe inizializzare la richiesta in formato secure, HTTPS. Penso che funzioni più ne meno, però sinceramente non ho provato. E siamo arrivati al punto da cui eravamo partiti. Inneschiamo la richiesta al server. Ultimo step, andiamo a vedere il metodo che riceverà la risposta. E' uguale in pratica a quello dell'altra volta. Conferma che la risposta è comunque arrivata, è di totbyte, li legge tutti. Con il metodo readAll invocato sul parametro che contiene la risposta del server. Anche questo è un QByteArray. Trasformiamolo, secondo codifica UTF-8, in un blocco di testo che andremo ad aggiungere all'area di testo QPlane TextEdit, predisposta sulla form. Anche questa parte l'ho già commentata un po' più in dettaglio. Nel video precedente non insisto. Qua il codice con l'exit dell'operazione. 200 vuol dire ok. Qui lo estratto in forma numerica. Qua sotto lo imposto, trasformandolo in QString nella casella di testo status code. Stessa cosa vado a fare con l'eventuale descrizione dell'errore che vado a copiare nella casella di testo Errore.txt. Il server è app pronto all'uso, per cui non rimane che provare. Svezia. Premo invio e qua mi aspetto di ricomparire. Ok. Ricevuta questa nazione, Svezia. Annun error, nel senso che poi non c'è nessun errore da segnalare. Infatti lo status code è 200, tutto ok. Missione, almeno a livello di base, compiuta. E video, arrivato alla conclusione. Nel prossimo vorrei occuparmi ancora di networking. Tenterò, visto che per me è tutta una scoperta in itinere, di usare il protocollo TCPIP un pochino più basso livello, implementando un microscopico server ed interrogarlo con un client. Questa volta tutto sotto il nostro controllo. A risentirci. Grazie.